Guardatevi alla battaglia Dov'è? Dov'è? Ah! Mi sono castato! Ah! Mi sono castato! Infatti se ne sono senza obiettivi, camperiamo là Capitissimi per gli scuri, bravo Eh... Ti ho metto già il check-in Vi chiedzi Il problema sia il problema Il problema è che ci sono Il problema è che ci sono Rai l'euro Ho, 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 ho Ho, ho, ho Ho, 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 ho vabbè, mi piacerebbe spaventare non fai più po' giocare se no lo fa non lo farò project arse, solo che è uscito il DLC di destra quindi si gioca a questo dove andò morto? non è morto morto ah ok, però non lo vedevo passo al check va detto imponenzioni verti qua dicono che si è ucciso va qua ah di sotto si, ho visto gente che è boss non c'è tutta questa necessità da dove si è formato? attenti stiamo risponando l'uomo che ci hanno porto a bloccato l'altra volta c'è da destra stiamo risponando davanti centro c'è queste munizioni rare ci sono vedo munizioni qua non vorrei che sia come l'altra volta che devo andare a aprire le proc perchè non arriva niente l'oscurità avanti l'alveare è scatenato invece che adesso arriverà l'alveare qualcuno ha visto l'alveare se no lo metto io no no non ce l'ho lo metto io lo metto io con l'alveare ok l'alveare è scatenato non li ammazzi più con un nerdshot dei schiavi lasciate gli schiavi lì eh lasciate gli schiavi lì faccio qualche cosa succesa non lo faccio non lo faccio si può pensare di saltare schifosi abbiamo maniata sulla sinistra facciamo magari per l'era poi arrivo per la mangiata Questa l'orco, dove la mettiamo? Ah qua, ok L'orco si sta al centro, dove va? La prendo? Ah, spostasse Il nostro è andato Guardate sempre al dentro L'orco manca un colpo di morto L'orco manca un colpo di morto L'orco è morto Sembrano gli altri Mette un attimino sull'orco L'orco alza un po' il volume delle voci che non si sente niente Così immagino Forse parli della mia No, la mia voce l'abbiamo C'è un cavaliere sulla destra che viene sul centro Sì, lo vedo al cecchino, vedo una magliata qua, due magliata, la prima la sto prendendo quella non maggiore, ok non ho lo scudo, sto arrivando da poi, quasi no, lo scudo, poi YouTube, sono morto, la testa, io sono morto non ho, soltanto, mi guarda anche me ah, adesso è morto, a lei dalla chiamata, ok, dobbiamo averlo scannato, no, non ho questa è morto, scudo, tira una granata, ok ce lo, ce lo, ce lo ce lo, ce lo guarda gli manca un cazzo matto 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 il cavaliere davanti rimasco un 8 e 4 ma non c'è 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 c'è un accolito qua lasciamolo lì o lasciamolo lì, cerchiamo munizioni così eh però c'è un po' avvento allora si vanno scherzo va bene, io sono a posto anche io oi, fatta si è a livello 35 come da titolo ben guadagnata dovete tornare in camera di equilibrio adesso dove c'è vex credo vex? non so, non l'ho visto ma 35 vex per i vex non c'è il tex i giocatori ci riscono? quanto sono in volo più danno in volo e ne fanno anche di più in volo l'obiettivo sarà distruggere le mine non catturarle non so se non è uguale a se hai visto nei video che si sa anche qualcos'è dove ci mettiamo? c'è uno secondo me eh eh è sempre sulla best dovrebbe esserci un punto dove ci sono della specie di di tema destra qua che si può nascondere qua dietro non c'è ma cosa la mina? tu vedi qua c'è un ah lì? posso stare qui e stare a ripare lì qualcuno sicuramente io provo a rimanere qua in caso no 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 dopo mi conosce il fiampo sotto quello da vuoto per il mio paro non si faccia questo è vero perchè non lo metto subito anch'io bisogna stare attenti a guardare le mine c'è altro troppo però c'è adesso non dire la macchia oddio ma sta nemmo intendendo no mi ha check-inato lo goblin come è shotta dunque credo che c'è uno bubble di sopra qua non mi abbia tolto 2 minutes è pesante è risponato wow non te ne ho portato via via occhio c'è ma qui sta arrivando un minutavo alla tua sinistra no sinistra sinistra no 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 vedete non so se è di convene ad entrare in quella zona c'è uuu vabbè roba via no mi ha dato un shot no no non saltate quando vediamo gli indio goblin ci one shottano con un colpo di check senti che ce ne sono 3 sulla sinistra delle mie amiche su sinistra c'è senti il minotaur i nostri no goblin sinistra c'è il minotaur ce ne sono due a sinistra ah qua mi notavo eh infatti io posso dare radianza e si no ma aspetta tu sei irianimabile stanno indietro di un po' no non mi hanno visto arrivare si sono creati in mano si era intanto aspettiamo il minimo di marco tutt'ora se c'è la dimensione ancora lì ancora lì ancora uno goblin centro mappa è maggiore si ma lasciamolo lì così ok c'è uno marco avete delle pesanti comunque io adesso hanno due io ho quattro le due ma possiamo andare più singoli io sei io sei ok no a post lo puoi ah diciamo ah l'ho lasciato le emozioni libera anche io ho pesato la fissa torta forzi vex avanza ora attenti per le mine trovate mine ok o muovete mi ha fatto qua mi ha fatto mi ha fatto ok mi ha fatto oh quantità mi ha fatto ok dai ho sparato suorzò mi ha fatto un po' uno è subito ah ci ho pesato avanti non lo vedo lei lo prendo io prendi tu? ok 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 arti sulla destra bene stiamo prendendo la secondarcia adesso ok adesso tirerò la ultima parte ok e' la quale mi ha fatto la quale lo prendo qui si guarda me sinistra ultimo saltato no c uuuu eh la quale non la vedo prendo io ok puoi perfetto perfetto ci siete riusciti 12 e' c'è si ne si solo più uno maggiore si morto Ok, se avete trucchi il musulmanico aspetta di ucciderlo Ok, dono, spera che siano pesanti Siate pronti, altri nemici Sporci Prendo una sintesi veloce Ok, la prendo anche io la sintesi Eh, porca Shot e amostrita in qualsiasi movimento Posso rianimarne Eh, di notte veniamo a scoprire in altri Un po' che c'è sempre di radianza che non è la riserva Ci vediamo sempre delle cosaglie Con 2.5, 100 mappa, 90 di raggio Una su, qua Wow, 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 wow Ehi, hi, hi Ok, hai dato un sacco di roba Ho spavato per me il sole po' oggi La destra Sento sinistra, leggo Si, hai visto E' la valiente, da un po' C'è Oh, un galo o non l'ha ucciso? No, 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 non si Ok, fa muoce sto goblin Ok, fa muoce sto goblin Attenso, minutavo Minutavo Alla prossima sinistra Dio Quanto abbiamo andato? Goblin qua Lo goblin è... Ci diamo, lo facciamo in vittura Lo goblin è normale Non c'è un gioretto in questa zona per uccidare C'è anche se è il comodio, quello Ce n'è uno qua a destra E' uno qua a sinistra, davvero No, non c'è un ucciso Quello ho infiammato Io munizioni non ho niente, quindi... Non dovete uccidere Ok Ci diamo Ma c'è un cavolo Perfetto Dai, per un due andate, andate Sì, l'ego è concentratissimo Ragazzi, mi spiace, non vi dedicherò tanto tempo Fintanto che non finisce Dove mi metterò a urlare E vorrò farò vedere le boobs Però fino ad allora non posso Quindi adesso ci sarà... Ehm... Alveare, mi sa Tornate in camera dietro Ho cabal, no cabal adesso Ho cabal adesso Prendo la sinistra D'arco, eh? D'arco, è d'arco? Cool, bello E' fisso, dovete uguale a me Mi metto la lancia d'arco C'ho anche il gallo da arco L'ho riforgiato stamattina Addirittura Sì, sì, sì E' fisso E' fisso Il giallo d'arco Davi, ci sono Let's go Let's go Non mi sento sì 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 Dio Ho tutta tutta la mia Sì, tutta Che bello Come le esplodo Me le esplodo Me le esplodo Sì Vabbè Iniziamo già con i maggiori così Vabbè In realtà gli permette di spedicare da poco Qua siamo un po' alle strette Sì, io ho usato un gallo per togliere Comunque I centurioni con la zanna Continuate a fare critico in testa No, sono Oh Lasciamone voi Occhio al corpo a corpo dei Dei psionici Che è da vuoto e shot Eh Tu non mi credi Mamma mia Io non ho usato il gallo Era un po' in crisi quindi Io qua ho una falange e un centurione Uccido se esco il centurione e ho scenduto la falange Ok Marco è posto Qua c'è un centurione Fate pesanti per terra Allora Fate pure Poi uccido Con la falange Che è lì Poi uccido il centurione e prendo le pesanti che è in mezzo Ah no Qua c'è la falange Poi uccido Poi uccido la mano Uccido quella più dietro Ok Questa è già finita E' morta Sì sì Quindi è andata in posizione Aspetta cerchiamo altre mine Non so che non c'è più nuove No io qua di questo Non c'è più 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 Vado io Ci sono io sì sì Io provo a uccidere tutti i psionici che vedo che sono loro bene Sì Non c'è c'ho tutti i psionici di fronte Vengo al centro visto che di là è fatta Se arriva la prendo io Vento la falange Ok Falange Ok Vado a radio Vado a che mi stasera cercando di là Perché non sono più ruotati qua Non c'è più Non c'è più Non c'è più C'è più diою C'è più di cui giovani Sono andato E' più un perione rimasto E' una altra opzione Più c'è l'opzione in capo 2A Sì È morto 1 1 morto ok dai vieni ah questo lo ha prenduto questo mi so che dobbiamo metterci già in posizione ci siete riusciti eh il dono io il dono adesso ho già l'imposizione un'irruzione riparate 50 mille devono essere disinnescate altridere la gente wow tu dovremmo fare lo stesso giro la mine dove via e invece no ah è qua vado io ok ho tagliato anch'io e lo prendiamo con la genuide 2 centurione siamo in via con la genuide dai 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 vado io vado io eh l'acqua c'è che mi si è messo in casa per tutti ma che domsione c'è qua fede c'è curioni pure oddio ma cosa c'è? c'è già quell'altra se ne vado maggiore che radianza inferno e porca ci sono la prenda la prendo fantastico bella 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 c'è una fast fare se riusciamo attirarci tutti negli angoli con questa dovrei fare un po' di scuola di luce anch'io dai che mi sembra lui è un po' di super l'ho già fatto ehi va ehi va questo è l'ultimo eh facciamo un giro di munizioni l'ultima abbiamo finito questa andata bella sono finita l'andata bella bella sono stati bambini sono finita l'andata si si sono finita l'andata no ce ne sono molte di amiche che mi piacciono dipende dai contesti in carrera di equilibrio dov'è no qua la penultima bella 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 bella